Buonasera, ti presento il nuovo allenatore del frazionale calcio, Leo Greco, che sinceramente abbiamo parlato tanto questa settimana, ha parlato il presidente, per cui non c'è tanto da dire, ripartiamo con Leo, che sarà il nostro allenatore. Buonasera a tutti, lo vediamo domani, sicuramente abbiamo fatto un'ottima settimana con la squadra che secondo me, come hai detto bene tu, ha grande qualità tecnica e ho visto dei ragazzi comunque molto consapevoli da questo punto di vista del momento che si sta vivendo qui e ho visto grande voglia di cercare quantomeno a iniziare un percorso per poter cambiare questa situazione più velocemente possibile. Sappiamo che non è una cosa che si può cambiare dall'oggi al domani, perché anche se magari uno ha la volontà, comunque si ha a che fare sempre con ragazzi che prima che calciatori sono dei ragazzi che hanno comunque degli aspetti emotivi da gestire e tante volte tu vuoi fare ma magari non riesci a fare, vuoi dare ma non riesci a dare e quindi abbiamo cercato di dare anche un po' di serenità da questo punto di vista, però sono convinto che ci sono grandi margini di miglioramento sotto ogni punto di vista tecnico, tattico e mentale. Siamo stati molto attenti a fare delle valutazioni su quello che sono le caratteristiche della squadra e poi quello che magari in questo momento la squadra ha bisogno per trovare un po' di solidità, come hai detto bene tu nel calcio di oggi i moduli lasciano il tempo che trovano, anche se credo che avere una struttura ben chiara e definita aiuta la squadra a lavorare meglio in campo. Abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo lavorato in maniera molto chiara e netta e domani vedremo se saremo stati bravi a dare un minimo di ordine alla squadra. Non lo so perché a parte che sono due ruoli completamente diversi, difficoltà completamente diverse, io ho portato quello che sono io, me stesso, non ho fatto qualcosa di diverso, sicuramente l'aver giocato ti dà una sensibilità a volte diversa ma non è detto che chi ha giocato ad altri livelli poi riesca a percepire gli umori di uno spogliatoio e saperci lavorare. Sicuramente l'età mi può avvicinare maggiormente alla squadra, però io credo che è la credibilità della persona, di come ti poni, di come gli parli che fa la differenza, la squadra capisce subito se sei vero o no e io ho cercato solamente di portare quelle che sono le mie idee, il mio modo di vedere calcio, come interpreto la settimana, il lavoro e sono solamente me stesso. Personalmente sul piano a mano mi dispiace sempre quando una persona va via, che sia l'allenatore, che sia un collaboratore, un dipendente, un giocatore, però l'abbiamo fatto e si doveva fare, vi auguro tutte le fortune di questo mondo a Vincenzo perché è una persona per bene è un bravo allenatore per me, però c'è stato un momento che siamo stati convinti di fare questo passo perché secondo me Leo ha le caratteristiche adatte per questa società, per questa squadra e siamo andati subito su di lui senza interpellare nessun allenatore o pensare a un altro allenatore perché crediamo molto in Leo e vi dico un'altra cosa, ho fatto tre anni di contratto a Leo per cui così leviamo tutti i dubbi che devo essere di passaggio, è un allenatore che ci crediamo, io e il Presidente e abbiamo voglia di iniziare un percorso nuovo che inizierà da domani però più lungo possibile e questa è la situazione. Sì, noi sappiamo che incontriamo una squadra prima in classifica, quindi c'è poco da raccontare, una squadra forte, completa, tutte le caratteristiche giuste. Noi riteniamo di essere comunque competitivi, dobbiamo essere bravi a trovare un equilibrio tra quello che abbiamo bisogno di fare adesso, quindi prestazione, cercare di fare punti ma allo stesso tempo di esiminare qualcosa che poi ci permetta di uscire più velocemente possibile da questa situazione. Quanto ci metteremo non lo so, però bisogna avere questa forza mentale, questa solidità mentale di poter costruire ancora, di seminare per poi andare a cogliere più avanti. Non è semplice perché poi ci sono dei mezzi risultati, quindi bisognerà andare a lavorare anche da quel punto di vista, sulle emotività che poi portano, però bisogna avere questa solidità qui e sono convinto che la squadra, io la vedo, l'ho vista, l'ho percepita al di là di quello che è fisiologico di un cambio di allenatore, quindi c'è sempre una risposta nervosa. Ho sentito qualcosa di più profondo, che va lavorato, ma sono convinto che la squadra ha tutto per riuscire da questa situazione. Fanno bene, l'unica cosa che ci dispiace non cercare alibi prima di tutto, però c'è da dire che abbiamo sette giocatori fuori, voglio dire, ora di là degli allenatori, allenatore passato, allenatore nuovo, lavorare con questo fardello in testa non è facile, però Leo è bravo e cercherà di rimediare, di soffrire fin quanto ritorneranno questi ragazzi. Questa è la cosa, però sotto l'aspetto dello spirito della squadra, è stata una settimana, io sono stato da martedì con la squadra, sono stato pure io a ritiro, ma più che altro per conoscerci meglio tutti quanti, ho visto una squadra che ha lavorato bene sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto tecnico-tattico, per cui su quel lato là sono tranquillissimo, l'unica cosa che mi amareggia è che ci sono dei giocatori fuori, giocatori importanti che non li possiamo utilizzare, questa è l'unica amarezza mia, però faremo anche senza di loro la nostra parte. Come ho risposto in precedenza abbiamo fatto delle valutazioni attenti su quello che è stato il percorso della squadra, nello stato d'animo, di quello che dei ragazzi che abbiamo a disposizione, l'ho potuto vedere ancora di più da vicino, magari questo è un piccolo dettaglio che mi tengo per meno, perché incontriamo già la prima in classifica, ogni mia cosa per noi in questo momento può incidere, quindi sicuramente abbiamo pensato bene prima di fare delle scelte, tutti avranno comunque le opportunità perché poi andremo a affrontare il Zutirol e poi il Canzalo, quindi ci aspetta una settimana importante e tutti saranno coinvolti, quindi ho puntato molto su questo, ho voluto tenere tutti dentro, voglio tenere tutti dentro perché è un momento di stare tutti dentro e quindi ogni minima cosa può fare la differenza e siamo stati molto scrupolosi nel cercare di fare le cose al meglio. Non l'ho affrontato perché già ho un dispiacere che è andato via una persona, io dico noi stessi non dobbiamo avere alibi, io mi riferivo ai sette giocatori che mancavano, i giocatori io penso sono professionisti, vanno in campo e ce la mettono tutto, magari certe volte qualcuno ingosciamente non è collegato, però fa parte del percorso, se poi vado a fare delle analisi delle squadre che sono retrocessi dalla Serie A alla Serie B, tante squadre hanno trovato difficoltà perché magari, ma sempre questo ingosciamente qualche giocatore, io parlo dei vecchi, non dei nuovi, la retrocessione ti porta a pensare, magari stavo in Serie A, adesso sto in Serie B, pensi che è uguale, parti male e poi diventa sempre più difficile, questo è il mio pensiero, diventa sempre più difficile recuperare, ce ne sono stati casi tanti, in questo momento noi siamo una squadra, non dico che siamo allo sbando, ma siamo in difficoltà, in più si sono assommati di questi infortuni per cui non è facile, non è stato facile né per primo allenatore, né per secondo, secondo me c'è una carta da belare, tra virgolette, ma io sono convinto, siccome lui è una persona forte, preparata, c'è tanta energia e la metterà a lavorare, piano piano cerchiamo di recuperare, ci vuole un po' di tempo, prima che ha Simono il suo modo di ragionare, di lavorare e di dare dei concetti diversi, è lui il gnocchiero, per cui diamo tempo all'allenatore che può lavorare e alla fine secondo me ce la facciamo a uscire da questa situazione. Per il mio modo di ragionare sono sempre uno che guarda quello che si può andare a fare nonostante poi le difficoltà che trovi, anche nell'approccio quotidiano al lavoro, tanti ti sanno dire il perché le cose non vanno, cosa non vanno, pochi sanno risolvere le situazioni o sanno trovare le soluzioni per cercare di uscire da queste problematiche qui, quindi la squadra l'ho cercata di stimolare, invitare a guardare quello che si può fare, quello che ci manca. Io nonostante tutti questi infortunati vi sostengo che la squadra ha tutte le caratteristiche per essere comunque competitiva, poi quando ritorneranno questi ragazzi si dovranno adeguare a quello che è il nuovo modo di lavorare, non vediamo l'ora che ritornano e in questo momento qui voglio tirare il massimo da tutti quelli che ho a disposizione e quindi sono andato a cercare di stimolare questi aspetti qui. Non è che voglio fare il presuntuoso, ma io che faccio un contratto di tre anni a un allenatore giovane come lui, cosa c'è in testa? Cosa c'è in testa? Cioè di quello che vogliamo fare noi, lui è forte, deve fare le esperienze giuste, però c'è qualcosa dentro di un predestinato, per cui noi ci crediamo, stavo dimostrando con la primavera che ha valorizzato tanti giocatori, quello che cerchiamo noi, la valorizzazione al di là dell'aspetto dei risultati, per cui siamo in sintonia, non lo voglio caricare troppo, se le cose non vanno male la responsabilità è mia, per cui andiamo avanti così. Ma è deluso, non sono né deluso né arrabbiato, sono dispiaciuto perché le cose non vanno bene e ripeto, l'ho detto prima, mi dispiace mandare un collaboratore, un allenatore, siccome tanti anni ne ho mandato, poche volte mi è capitato per la mia filosofia, per il mio modo di lavorare, però questa volta sono stato costretto e l'ho fatta a male in cuore, mi dispiace, però non è, io devo guardare avanti anche la prospettiva della mia società dove lavoro, per cui non è, sono dispiaciuto perché per me, ripeto, è un allenatore bravo, però è stato sfortunato qui e non ci siamo espressi come volevamo, sì, quest'estate l'ho voluto a tutti i costi, avevamo un contratto con il Catanzaro, l'abbiamo aspettato, è come si sta, tante volte pure qualche giocatore uno lo vuole prendere a tutti i costi, poi arriva nella società e non fa bene, non si integra, il calcio anche questo può succedere, per cui non sono né arrabbiato né deluso, sono così, mi dispiace per la persona, però io devo guardare avanti, devo guardare avanti il Frosinone, alla base di tutto nel mio lavoro metto sempre il Frosinone perché lavoro per il Presidente Stirpe che mi ha dato una responsabilità importante e io, se devo essere deluso, sono deluso verso il Presidente, io personalmente che lo sto deludendo nei risultati, perché questo è il quinto anno che faccio qui, penso in questi anni abbiamo fatto benino, benino, diciamo benino per non dire altro, però quest'anno, a oggi sta andando male, però ripeto noi usciamo fuori da questa situazione. Non ho paura a dirlo, nel senso che è normale che ti passa da tutto, però io ho 38 anni, come ha detto prima il Direttore, è un'occasione così, sono un ambizioso che lavora in maniera molto umile e seria nel volermi migliorare e credo che la paura fa parte comunque se è sana, se la sai gestire, è una cosa che è positiva perché non credo alle persone che non hanno mai dubbi o non hanno mai paura nel affrontare le cose, però le sfide sono fatte per queste, belle, questa per me è una sfida bellissima, è uno step importantissimo per la mia carriera, non voglio essere schiavo del risultato perché mi macchierebbe il lavoro, lavoro per il risultato, per dare soddisfazione al Direttore, al Presidente e a tutta quanta una città che in questi due mesi comunque mi sono trovato benissimo e con tutte queste cose le porto in campo, le trasmetto alla squadra che con tutte poi le idee che ci posso mettere dentro tattivamente, quello che è la mia, il calcio che sento ecco, però come comunque essere umano è chiaro che è stata un'emozione per me e allo stesso tempo uno stimolo importante. Sono tutti disponibili a parte quelli che già conoscete, dal punto di vista fisico ho trovato una squadra buona, secondo i miei parametri per quello che penso si può essere ancora il livello ma ci vuole tempo, non che è stato fatto qualcosa di sbagliato prima ma solo magari di metodologie diverse, però non siamo entrati in maniera invasiva perché sarebbe stato da folli, però qualcosa abbiamo cambiato, qualcosa cambieremo ancora, ci vuole tempo e pazienza e perseveranza, quindi sono queste le cose sulla quale poi su un discorso più a lungo termine stiamo lavorando. Sono contento perché in questi due mesi che sono arrivato qui e ho vissuto un po' di più città in maniera un po' più serena e tranquilla, ho potuto respirare meglio la gente, come si vive qui e ne ho parlato spesso anche col direttore, qui ci sono dei valori che un po' nel calcio moderno di oggi si stanno un po' perdendo, quindi mi ci sono ritrovato, io vivo a Ferentino dove ho la signora di casa che mi prepara ancora il pane caldo e me lo fa trovare, quindi sembra una cosa banale ma ha un aspetto su cui bisogna andare a lavorare perché la squadra si deve riconoscere in questi valori qui, li deve saper rappresentare e la squadra ha bisogno che la gente fa a percepire questo, quindi sono solo contento e spero di regalare soddisfazione a tutti. Io sono sempre d'accordo col Presidente Stilpe, però io dico lasciamo stare quello che abbiamo detto, io sono d'accordo su una cosa, se la squadra va male la colpa è mia come responsabile e basta, poi dopo dobbiamo guardare avanti, inizia un nuovo percorso e il percorso da domani già è iniziato da martedì di questa fine settimana, per cui non voglio più, penso solamente a cercare di dare un aiuto a Leo e la squadra e basta. Leo la tua primavera ha vinto 3 a 1 fuori canza, per cui prima no, prima no, 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 prima stavamo che stavamo perdendo, ma è venuto era dispiaciuto, ha detto stanno perdendo 3 a 1, chi ha segnato voi lo sapete? Va bene, va bene lo stesso, bravo e benvenuto il nuovo allenatore. Lo staff è composto con Giancarlo Marini che farà il mio vice allenatore, Daniele De Sena collaboratore tecnico, Dario Flotti match analista, Matteo Di Norscia preparatore dei portieri, Alessandro Fonte preparatore atletico, Michele Saccucci preparatore atletico, Manuel Pasquini video analista. I ragazzi non l'ho potuto di vedere, spero di vederli presto perché io ho fatto due mesi con loro, bellissimi, se sono qui gran parte merito anche loro perché mi hanno dato una grandissima disponibilità, abbiamo fatto un bellissimo lavoro con lo staff che eravamo giù, con tutti quanti si era creato un bel ambiente, se oggi ho questa opportunità è anche perché ho avuto grandissima disponibilità e dal punto di vista umano mi hanno dato tantissimo. Mi è dispiaciuto non salutarli, ma lo farò a breve e saranno comunque monitorati attentamente perché credo che ci siano dei ottimi ragazzi che se lavorati possono dare soddisfazione.